La mostra è dedicata a Leonardo Cremonini e Karl Plattner, due artisti che si incontrano nella seconda metà degli anni 40 a Milano. L'incontro a Brera è cruciale. Da quel momento nascerà un'amicizia che manterranno sempre viva nonostante i continui spostamenti dei due artisti. Il loro confronto si mantiene sempre serrato e dialettico, legato sempre ai temi dell'arte. Troviamo il tema della maternità o dell'infanzia, un'infanzia che è giocata attraverso lo sguardo del bambino. Un altro tema è quello del paesaggio, un paesaggio che si apre attraverso una serie continua di soglie, finestre oppure muri che dividono lo spazio in continue direttrici verticali oppure attraverso gli orizzonti, orizzonti che diventano anche orizzonti del pensiero. Ricorre nelle composizioni l'uso dello specchio. Attraverso lo specchio la composizione si amplifica, riusciamo a vedere ciò che sta dietro le cose o forse ciò che l'artista desidera che noi osserviamo con più attenzione.